Cosa è successo qua? Cosa? Cosa? Forza, allora. Devo colpirti? Voglio che ci provi. Vai! Che fai? Riprovaci. Perché fai così? Sei lento. Di nuovo. Smettila! Fiacco, ancora. Ancora! Smettila! Ancora! Ok. La tua rabbia rischia di acciacarti. Il nostro cammino è difficile. E tu, Atreus, sei tutt'altro che pronto. Cosa? Si. L'ho dato la prima interruzione, ma si è spiegato il joystick, quindi ho dovuto... Forse a voi è riuscita in introduzione, comunque sono uscito. E' inutile che ti rintani lì dentro. Io so chi sei. Chi c'è la fuori? Tu lo conosci? Ma soprattutto io so che cosa sei. Presto, vai lì sotto. Ora! Mi avevi proibito di andarci. Ma chi è? Non lo so. E di cosa parla? Non lo so. Forza! Ok, abbiamo messo il figlio al sicuro. Dimmi solo quello che voglio sapere. Evitiamo spargimenti di sangue. Ma chi è? Sei pieno di tatuaggi, eh? Ti credevo più alto. Ma è proprio te che cercavo. Sei all'entrata da casa ospana. Che cosa vuoi? Oh, tu la sai già la risposta a questa domanda. Qualsiasi cosa cerchi io non ho niente. Te ne devi andare. E io che credevo che la vostra specie fosse più illuminata. Vostra specie. Che voi foste migliori di noi, più intelligenti. Invece tu ti nascondi qui, nella foresta, come un gran codardo. Non ti conviene combattere. Non vedo l'ora di farlo. Vuole combattere? Fuori. Tu hai la mia casa. Ok. Dovrai ammazzarmi se vuoi che sparisca. Te l'avevo detto. Non importa. Bel pugnazzo. Tu non mi ascolti. Tu non mi ascolti. No. 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 Però... Tocca a me! Oh, la madonna. Vabbè. Ma chi è? Chi è? Chi è sto tizio? Chi riscalzi? Che delusione incredibile! Fatte sotto! Andiamo a affrontarlo? Lo sconosciuto. Ha 5 barre di vita. Ok. Aia. Aia. Non male. No, mi sa che mi porterò solo la metà facile. Non puoi provarci? Giocherò solo la metà facile. È già così difficile? È un solo inizio, eh. Ok. Che è un po' di. Che è un po' di. Che è un po' di. Ok. Ok. il paraggio delle colpe non ce la facciamo lo stesso aia è rimasta veramente poca vita aia mi ha sconfitto dimmi ciò che voglio e le tue sofferenze finiranno non vuoi sapere è quello che vuoi sapere è il dove uno attacco e il dove uno contro attacco posso ucciderlo così lui doveva andare così oddio ho trovato un punto debole premier 1 per attaccare culla oh vabbè che bocca ah le cupra vita tu parli troppo l3 r3 per uffuli in sparta oh vabbè dov'è oh vabbè dov'è dov'è muori muori conosciuto oh vabbè sei una noia mortale cosa nascondi ah muori ah muori ah muori ah muori non ha tempo non ha tempo per questo eh vabbè l'adversario e' un demonio E muori E muori E muori Perdonissimo Ma guarda che morte Andiamo a pugnare la rozza Abbiamo discuso tutto Chi vuole c'è? Che non c'è niente Lo stanco è ferito Ma che? Ancora vivo Che non posso sentire niente di tutto questo E vabbè E si Nel buco no Devo salire Ho visto con i tuoi occhi Non puoi ferirmi Niente può farlo È stato tutto Tutta la vita Oh mio Dio Io non sento niente Ma tu sì Eppure Continui a provare Io non sono mio fratello Se tu mi avessi dato Tu che volevo Non sarebbe pedita così Ah sono guarito così Eppure 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 Forza No sento niente Cade 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 Mi ha sconfitto Eh beh Mi ha sconfitto Non puoi battermi Eh Ok Io ho fatto più danni Niente Inizio di fare lo sbuffone Questo ho fatto male Inizio di fare lo sbuffone Allora Basta Inizio di fare lo sbuffone Inizio di fare lo sbuffone Speriamo che tu Tutti quelli che ho affrontato Mi facessi finalmente sentire qualcosa Ma non puoi Su Avanti su L3 R3 Ok È morto Credo A quel punto Fonda Chi era? Mi conosceva Conosceva il mio passato Come mi hanno trovato dopo tutto questo tempo Siamo già i dispecchi diversi Nostro figlio non è pronto Per portare le ceneri sulla montagna Siamo già i dispecchi diversi Siamo già i dispecchi diversi Siamo i dispecchi diversi Senza di te Ma non possiamo stare qui Ragazzo Sentivo dei rumori Io credevo Tu stai bene? Sì, sto bene Ok Vieni Prendi le tue cose Ce ne andiamo Ma sono pronto Ma sono pronto? Non sei pronto Ma non abbiamo scelto ora Mostrami che lo sei Lo farò Noi Ok Vetti è implotato Vetti è verso la montagna Stai da solo, non sto muovendo niente io Ok La montagna quindi fino alla in alto O la in alto La in alto penso Sarà lunga la strada Direi di prendere questo Ok E direi di fermarci Di fermarci qua Perchè adesso è un nuovo capitolo Nuova zona E non voglio Fare Non vorrei unire le parti Disturbare la storia della serie Perchè C'è una storia dietro Ehm E poi abbiamo fatto un bel boss gigante C'è un bel boss potente Più del gigante E quindi Niente Io spero che questa parte O queste parti vi siano piaciute Un like Un commento per dare la vostra opinione Iscriviti al canale sui nuovi Con il disegno dell'essere E noi ci vediamo nel prossimo video A presto E poi ENA Grazie a tutti.